Buoni Amazon, buoni Benzina e altre decine di marchi scontati pagando in criptovalute? Mica male, eh? La stessa cosa che ho pensato io quando ho trovato questo sito. Oggi andiamo a testarlo insieme. Non l'ho mai fatto, quindi lo farò insieme a voi per la prima volta. Cercherò di non tagliare i pezzi, se non esclusivamente i periodi morti, in modo tale che ci saranno tutte le eventuali mie reazioni. Vi spiego il tutto. Adesso giriamo lo schermo e andiamo a vedere di cosa si tratta. Eccociate sul sito Lion Commerce. Questa è la prima volta che lo vedo, ci facciamo la seconda perché l'ho visto prima per poter fare questo video, ma è la prima volta che lo andiamo, che lo vado ad utilizzare. Come vediamo c'è la possibilità di prendere delle gift card, quindi dei buoni sconto su diversi marchi come Airbnb, Amazon, Uber oppure Wishcard che poi andremo a vedere scontati. Ad esempio, non so, qualora volessi prendere 500 euro di buoni Amazon, avrei uno sconto del 5%, ma con Wishcard avrei addirittura di più. E adesso andiamo a vedere il tutto. In pratica come funziona? Ci sono diverse blockchain, in questo caso ce ne fa scegliere tre, Matic, Crow e Cava. È possibile depositare i propri soldi, scambiarli, perlomeno questo è quello che promette il sito, con questo buono. Allora, io innanzitutto per interagire su questa piattaforma vi informo che ho creato un nuovo wallet su Metamask. Quando si interagisce con degli smart contract, con delle piattaforme che non si conoscono, in ogni caso, qui viene sempre creare un nuovo wallet. Ho creato questo wallet, o sto utilizzando la blockchain di Matic e ci ho spostato, scusate, 51 USDC, 51 dollari. E 0, 3, 0, 4, insomma, non ricordo, Matic, per pagare le fee di transazione. Cominciamo a capire alcuni aspetti. Qui ci sono tutti i vari link. Io sono andato direttamente sul Medium, che spiega un qualcosa relativo a questo sito. In pratica, ci sono diverse possibilità. C'è la possibilità di acquistare semplicemente questi prodotti, quindi vado direttamente sul sito, deposito questi USDC e acquisto questi prodotti. Oppure è possibile addirittura mettere in staking, come vediamo qui c'è la parte staking, dove posso scegliere se mettere i staking i miei USDC e dopo 7 epoche mi verranno pagate le reward. Attenzione qui, attenzione, queste reward ti danno diritto ad avere un 5%, in pratica se io depositassi 1000 dollari in 1000 USDC, dopo una settimana avrei il 5% in più, quindi avrei 50 dollari in più. Questi 50 dollari è possibile utilizzarli per comprare altri buoni all'interno di questa piattaforma, ma i 1000 dollari depositati non possono essere ritirati, quindi posso continuare a fare staking, ma non posso ritirare questi fondi. Ok, quindi attenzione sotto questo punto di vista, questo mi sembra un po' una parte leggermente ponzi, leggermente mi ha scappato e quindi io starei molto attento a questo, quindi cerchiamo di prendere probabilmente il buono se c'è su questa piattaforma e lo scopriamo subito. Tornando un attimino su Medium, ci dice che è possibile pagare anche con un altro token, in questo caso il Lion, che è il token proprietario della piattaforma, che è un token che dovrebbe essere pegato a 0,025 dollari tramite signoraggio. In pratica è possibile acquistarlo a prezzo basso, per esempio non so se dovesse scendere a 0,020, qui ci fanno l'esempio, è possibile detenerlo fino a quando non torna ad esempio a 0,025 e in quel caso lì si avrebbe uno sconto maggiore. Vi ricordo che i token che utilizzano questo sistema di signoraggio non sono andati molto molto bene. Ad ogni modo ci dice che questo token attualmente è backed, quindi è coperto al 75%. Ragazzi, questo non ho modo di visionarlo e di saperlo, ma cerchiamo di prendere come detto le cose semplici, non andiamo a sbattere la testa su qualcosa di più complicato. Quindi adesso andiamo al catalogo per vedere quello che ci offre, innanzitutto qui direi di cambiare la regione e mettiamo Italia, fondamentalmente siamo in Italia, quindi vediamo quello che è disponibile. La cosa strana che ho trovato su questo sito è che ci sono magari importanti marchi come Amazon, Uber, Wishcard che ci dà diritto a una marea. Di card che adesso andremo a vedere, ma c'è anche questo Funtanir che non sapevo cosa fosse, è in realtà semplicemente una sorta di bed and breakfast con anche un servizio di bar, credo, che si trova a Bologna. Un po' strano che ci sia questo marchio all'interno, cioè non so, probabilmente è un marchio importante che mi sfugge, ma non essendo di Bologna non conosco, ma mi sembra strano che ci sia questo Funtanir all'interno. Andiamo a vedere invece Wishcard, per esempio. Wishcard in pratica ti consente di regalare, tra virgolette, pure a te stesso, dei buoni e come vediamo ci sono buoni di diversi marchi. Quindi per esempio qui andiamo a vedere altri negozi, vediamo quanti negozi ci sono. Ok, abbiamo Zalando, abbiamo Amazon, abbiamo H&M, Airbnb, Kuwait, quindi abbiamo anche i buoni benzina, abbiamo Kuwait, IP, quindi ce ne sono davvero tanti. Flixibus, Tamoil, LaCoin, Prenatal, Ikea. Abbiamo ad esempio Italo, quindi anche il treno ed è possibile acquistarlo, quindi in questo caso, a quanto pare, per quello che ci dice il sito, con il 10% di sconto. Quindi io posso acquistare questa gift card, Wishcard, e nello stesso tempo posso acquistare ad esempio un buono Amazon, quando avessi necessità, e avere anziché il 5% di sconto, come in questo caso, un 10% di sconto, a fronte di 50€. Io adesso ho caricato il mio wallet, come detto, sulla blockchain di Polygon, con 51 USDC per effettuare questa transazione. Ad esempio, se io dovessi acquistare questa Wishcard, andiamo a vedere, che costa 48$.24, a fronte di 50€, in questo caso il dollaro si trova molto più basso rispetto all'euro, ed ecco fatto che ci viene quindi 48$, ma in base al cambio del momento, in effetti è come se lo pagassi 5€ di meno. Allora è quindi 45€. Adesso clicchiamo su approva la transazione e approviamo di spendere gli USDC. Mettiamo ad esempio massimo, in questo caso 51, non do comunque sia di più, mettiamo approva e abbiamo approvato. Vedremo adesso che cosa succede. Ok, la transazione è stata eseguita e adesso, come vediamo, si è acceso il tasto Buy. Compriamo altamente su Buy e vediamo se mi viene effettivamente consegnato questo buono. Conferma. La transazione è eseguita, è sparito tutto. Vediamo se adesso ho, innanzitutto, vediamo un attimino il mio wallet, se mi ha tolto i dollari. Scommetto di sì, quelli infatti sono stati tolti subito. Mi restano 2,70$, perché qui segna ancora che ho 51$, ma questi 52$ non li ho effettivamente. Andiamo su your order e qui troviamo direttamente questo prodotto. Come vediamo lo stato è di pending, quindi siamo in attesa. Non so quanto tempo bisogna attendere prima che passi dallo stato pending a che mi venga consegnato, ma lo vedremo insieme fra poco. In questo momento sono le 10.02 di venerdì 15 settembre e vediamo quanto bisogna attendere. Lo sapevo. Lo sapevo. Lo sapevo che ci sarebbero stati problemi. Infatti così è. Beh, innanzitutto, in questo momento sono le 11.23 e ancora è in pending, quindi ancora non mi è stato elaborato. Nel frattempo, io ero già entrato nel loro Telegram e che cosa è successo? Questo pezzo invece è girato in post-produzione, perché semplicemente l'ho stato un po' troppo prolisso e voglio tagliare le parti inutili. In pratica che cosa è successo? Dopo diverso tempo che questi ordini restavano in attesa, io ero già entrato nel Telegram del gruppo e mi sono accorto che l'amministratore del gruppo aveva chiesto a chiunque ha effettuato quest'ordine di inviargli un messaggio privato. A questo punto ho iniziato la conversazione privata direttamente con questo signore. Mi ha detto che ci sono dei problemi con le card di Wish. In pratica da questa mattina non funzionano più. In ogni caso mi ha chiesto che cosa con tensioni prendere, io volevo prendere una card di Amazon, gli ho detto. Mi dice, guarda, in teoria non si può fare questa cosa perché sono apposta le carte di Amazon. Questo è stato il sunto. Dice però, siccome non abbiamo messo dei disclaimer, fondamentalmente la colpa è nostra, ti mandiamo ugualmente questa card di Amazon. Poi a un certo punto mi dice che non ha più queste carte di Amazon da 50€ e mi dice che sono disponibili su esclusivamente quelle da 100€. Però nello stesso tempo si sta adoperando a vedere se riesce a rimediarmi una da 50€. Ogni modo dopo circa mezz'ora gli dico, guarda, se hai problemi con la carta di Amazon, puoi anche mandarmi la carta dell'IP. E dice, no, proprio il problema è proprio con le Wish Card, quindi proprio con la piattaforma Wish Card. Dice, un quesito sta cercando di rimediarmi questa carta di Amazon da 50€. Se non la trovo ti rimborso. Se vuoi rimborsarmi, ok, ma mi avrebbe fatto piacere provare. Ma altrimenti va bene comunque sia il rimborso. Si dice molto dispiaciuto, visto che la prima volta che utilizzo lo store, ho avuto questi codici Wish Card fermi settimane e poi quando servono non funzionano. D'oggi modo il rimborso non è arrivato, non è arrivato assolutamente nulla. Dopo circa mezz'ora gli iscrivo e visto che voglio fare questo video per capire se la piattaforma funziona o meno, gli dico, ma quando decidessi di prendere questa card da 100€, come potrei fare? Devi acquistare un'altra card da 50€ che sia di Wish o di Airbnb. Ma qui faccio un disclaimer grosso come una casa. Non avrei mai effettuato questo acquisto aggiuntivo. Non avrei mai inviato ulteriori soldi, perché non si fa mai in tutto il settore delle cripto, soprattutto. Ma in questo caso, per ragioni di video, perché volevo fare il video e vedere se la piattaforma funzionava, ho caricato gli altri 50€ e ho acquistato un'altra card. Però amici, vi chiedo un bel pollicione all'insù, perché in questo caso sto spendendo 100€, quindi mi farebbe piacere almeno questo gesto completamente credito da parte vostra. Vediamo quello che succede. Facciamo direttamente l'ordine. Ho filato nuovamente il mio wallet, ci ho messo altri 50$ e andiamo direttamente a prendere un'altra Wish Card a 50. Benissimo. Andiamo su Buy. Non è successo nulla, quindi probabilmente è impazzito il sito. Riaggiorniamo direttamente. Bisogna approvare un'altra volta, perché giustamente avevo approvato un importo inferiore prima. Quindi diamo la conferma. E l'altro ancora non esce nulla. Eccolo qua, è uscito il tasto Buy. Vediamo un pochetto Buy. Però non mi permette di acquistare. Riproviamo. Vai. Non funziona. Benissimo. Mi scrivo, non me la fa acquistare, quindi provo Airbnb. Mi dice, ok, allora a questo punto andiamo su Airbnb. Probabilmente il dev già ha disabilità con qualche cosa e quindi non funziona. Andiamo direttamente quindi a comprare questa di Airbnb con EU. Airbnb Europa. Diamo l'ok per acquistare tramite USDC. E vediamo se questa volta la transazione funziona. Ragazzi che fatica, sono quasi sicuro di aver perso questi 100 dollari. Vediamo. Ok, la transazione dovrebbe essere eseguita. Andiamo a vedere il nostro wallet. Si sono presi l'importo esatto. Non si sono presi un importo maggiore. Già questo è un buon segno. In ogni caso, adesso sotto la voce ordini dovrai vedere i due ordini. Benissimo. Transazioni eseguite. 98, 96 dollari inviati, più di 96 dollari inviati e per il momento ancora nulla. Tanto il tempo passa e nulla arriva. Allora, mi ha risposto, mi ha mandato il link. Devi solo firmare per decifrare e vedere il codice. Dove mi manderà? No, probabilmente, quindi andiamo semplicemente sotto i miei ordini. Ok, completa e completa. Andiamo semplicemente a fare decrypt. Ah, qui mi tocca firmare la transazione. Benissimo, firmiamo la transazione. Firmiamo anche quest'altra, visto che non sappiamo. Probabilmente sarà lo stesso codice. Ma non lo so, adesso ho questo codice. Vediamo un po' se lo mettiamo su Amazon, se funziona. Allora, adesso sto direttamente su Amazon, riscatta buoni regalo. Mettiamo il codice, aggiungi al mio account. Ragazzi, 100 euro. Mi sono stati accreditati 100 euro sui buoni regalo su Amazon. Incredibile, ragazzi. Non pensavo, ma è riuscito. È riuscito, ragazzi. L'ho ringraziato perché effettivamente questo buono Amazon deve stare inserito e funziona. E mi sento un po' più sollevato. Ho mandato lo stesso codice su entrambi gli ordini, in modo che così risultassero evasi. In effetti il codice è lo stesso. E io a questo punto sono entrato in possesso di 100 euro a fronte di 96 dollari spesi circa, che naturalmente, considerando anche il cambio, ho avuto il 10% effettivo di sconto su questi buoni Amazon. E adesso però arriviamo alle conclusioni personali. Bene, ragazzi. Abbiamo partorito. È quasi mezzogiorno. Sono strafelice che intanto ho ricevuto il mio buono Amazon da 100 euro. C'è da dire che è sicuramente una piattaforma acerba. È nata i primi di agosto, visto che Telegram è stato aperto il 5 di agosto. Quindi naturalmente deve ancora crescere. Ci sono stati problemi. Possono capitare a tutti. I problemi capita a chi lavora, ma sono stati risolti. C'è da dire che non mi è arrivato subito il rimborso. Sarebbe bastato un click. E quindi diciamo che probabilmente questo è l'aspetto che potrebbe essere migliorabile. Ma anche io ero che si stava adoperando per trovarmi questa ricarica Amazon da 50 euro. Perché probabilmente ha pensato magari se gli trovo questa ricarica è un utente felice che compra ancora. Se invece gli do i soldi, probabilmente non lo rivedremo più perché comunque sia non ha avuto il servizio, ha dovuto perdere tempo e vi dicendo. Benché c'è anche l'altro dato della medaglia perché magari una persona intelligente potrebbe dire va bene, non quesia, sono stati onesti, mi hanno restituito i soldi. Quando sono un po' più attrezzati, ritorno a seconda insomma dei punti di vista. Nel mio caso sono riuscito ad ottenere il 10% di sconto ma se acquistate la carta Amazon direttamente non c'è questo sconto. Io sono riuscito perché è stato fondamentalmente un errore loro, magari non fatto apposta come presumo, ma in ogni caso mi hanno risolto il problema. Però acquistando una carta Amazon, ad esempio, da 100 euro, lo sconto è del 3% e non è del 10%. Per esempio abbiamo visto che ci sono anche altri servizi come Airbnb oppure Uber oppure quest'altro bed and breakfast e locale, ristorante, insomma, che si trova a Bologna. Adesso sarà interessante capire come si comporteranno con queste wish card, dato che hanno questi problemi. Vediamo un attimo come verranno risolti, altrimenti la scelta è abbastanza limitata. Poi ampliamo anche la panoramica. Per quanto riguarda invece la parte staking sul sito non la trovo assolutamente interessante perché in quel caso non c'è la possibilità di poter ritirare i propri fondi. Quindi una volta solo quella piattaforma sono andati. Se voi depositate, ad esempio, 1000 dollari avrete, sì, 50 euro di bonus a settimana con il quale è possibile acquistare un'altra carta ma quei 1000 dollari non saranno restituiti. Quindi possono sempre rimanere nei staking e generare sempre dei profitti. Ma, 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 chiaramente se la piattaforma dovesse chiudere quei 1000 euro, 1000 dollari, insomma, che siano non li ripetrete più. E quindi bisognerà vedere se siete rientrati o meno del vostro investimento se è stato profittevole o meno. Del token non ne parlo non mi interessa proprio da questo punto di vista quindi se volete approfondite voi stessi. Poi se lo so qualcuno di voi dirà è un ottimo modo per effettuare del cash out ma, ragazzi, i fondi vanno dichiarati le vostre crypto vanno dichiarate e quindi per tutto il resto vedetevela voi. Io penso semplicemente che sia un buon sistema per avere dei sconti su un qualcosa che magari uno già dovrebbe acquistare. Se dovessi dare un consiglio al team direi di implementare una sorta di automazione per il rilascio di questi codici penso che metta anche trasparenza e sicurezza e di mettere un po' più di card altrimenti qui siamo limitati quindi risolvere il problema con Wishcard trovare un altro fornitore non so. Come al solito, poi, ragazzi, queste piattaforme oggi ci sono, domani non si sa. Spero che vada bene perché l'idea è comunque sia carina quindi spero per loro che il tutto proceda nella maniera opportuna e che siano onesti. Non possiamo saperlo, la persona si è comportata bene con me ma non è detto che quello che faccia oggi sarà così anche domani. Poi se avete altre idee, altre opinioni differenti, se concordate, qualsiasi cosa avete da aggiungere scrivetela qua sotto nei commenti perché può essere utile anche per altre persone quindi qualsiasi scoperta fate ben venga per essere aggiunta qua sotto nei commenti sicuramente può aiutare altri utenti. Ragazzi, visto la sudata, visto quello che è successo, visto il rischio che mi sono preso, bel pollicione all'insù e spero di esservi stato utile e ci vediamo al prossimo video del Marchese del Cripto. Ciao!